Avrebbero rubato dal deposito dell'azienda di Modugno in cui lavoravano oltre 4.400 elettrodomestici, prelevandoli di settimana in settimana e causando così un danno da circa 900.000 euro. Per questo tre baresi, due dipendenti dell'azienda di 32 e 49 anni e il presunto complice di 33 che durante i furti faceva sostanzialmente da palo, sono finiti ai domiciliari con l'accusa di furto aggravato a danno dell'azienda che opera nel settore dell'arredamento. I carabinieri hanno condotto le indagini dopo che ad aprile era stato denunciato il furto dei beni dal deposito. In particolare nel corso delle indagini è emerso come i due dipendenti avrebbero approfittato proprio del rapporto lavorativo con l'azienda per portare a compimento i furti dal deposito aziendale. Il quadro indiziario emerso dopo l'attività di indagine dei carabinieri è stata poi condivisa dal GIP del Tribunale di Bari che ha emesso la misura cautelare nei confronti dei tre baresi.